Il percorso Empower Masterclass vuole portare a un livello di consapevolezza, perché partiamo da un presupposto molto chiaro, che ciascuno di noi ha tutte le potenzialità per poter riuscire nella vita per la propria realizzazione personale, individuale, nelle relazioni. Il punto è che capita che alcune volte la quotidianità, le vicende della vita ci portino un po' a reprimere, a sopprimere e a non considerare queste risorse. Un percorso come Empower Masterclass ha l'obiettivo, e lo abbiamo ripetuto già molte volte con successo, di far sì che queste risorse si attivino e le persone cominciano a sviluppare una serie di competenze utili sia al mondo del lavoro sia alla persona a 360 gradi.